Un appello a tutti i cittadini, oggi il 14 agosto alle 21.10 sono ancora al Comune, devo fare un appello perché abbiamo dei problemi in sé che per quanto riguarda il ritiro dell'umido nei prossimi giorni. L'appello è di non uscire domani l'umido e di uscirlo lunedì, so che è un problema ma ci ritroviamo che in tutta la Sicilia i centri di compostaggio risultano essere chiusi. Vi prego di non creare né discariche abusive né conferire l'umido nell'indifferenziata perché saremmo ulteriormente penalizzati. C'è stato un inconveniente tecnico, il centro di compostaggio è stato chiuso, c'è una mancanza di programmazione a livello regionale di certi servizi, è stata emanata un'ordinanza, tutti i sindaci della provincia di Ragusa sono compatti e da questo punto di vista stanno dando battaglia insieme al commissario Piazza affinché il centro di compostaggio di Moritani si vi apre. È stato avvisato anche il prefetto di questa situazione ma per un problema burocratico per quanto riguarda l'ARPA che è stata fatta un'ordinanza ma non è stata trasmessa. Quindi ascoltate i cittadini, stiamo facendo un ottimo lavoro dal punto di vista di pulizia del territorio. Vi prego di non abbandonare i rifiuti per strada e soprattutto non buttare l'umido nell'indifferenziata. Buon Ferragosto.